Ci sono nomi eccellenti tra i destinatari di misure cautelari in tutto 25 dell'operazione Acqua Fresca condotta dai carabinieri del Comando Provinciale dell'Aquila, dal nucleo investigativo in particolare diretto dal Maggiore Edoardo Commandè. All'alba è scattata l'operazione nel comune marsicano che ha visto otto arresti in totale, un in carcere per l'ex senatore e vice sindaco Filippo Piccone, sette ai domiciliari, tra questi il sindaco di Celano Settimio Santilli, il segretario comunale, tre dirigenti, un imprenditore, un libero professionista. In tutto sono state denunciate all'autorità giudiziaria 56 persone, coinvolti anche imprenditori e liberi professionisti residenti nelle province dell'Aquila, Roma, Teramo e Pescara. L'ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano sul richiesta della procura di Avezzano ed eseguita dai militari del Comando Provinciale. Si tratta sostanzialmente di un'inchiesta su presunti appalti pubblici pilotati. Per l'accusa gli amministratori avrebbero turbato numerose procedure di gara. Si parla di fondi pubblici per 13 milioni di euro, 11 per l'esecuzione dei lavori, un milione e mezzo per la progettazione, 500 mila euro per affidamenti. I reati contestati vanno dall'induzione in debita a dare o promettere utilità, dall'istigazione alla corruzione, passando per tentato peculato, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falso in atto pubblico e rivelazione di segreti d'ufficio. L'indagine è partita nel 2018 grazie ad un esposto che paventava irregolarità da parte dell'amministrazione comunale, sia precedente che attuale, tesa a favorire persone vicine agli amministratori con vantaggi economici e consenso elettorale per i politici locali. Piccone per l'accusa ha avuto un ruolo apicale che gli permetteva di perpetuare un sistema illecito, descritto come clientelare. Un sistema clientelare, insomma, quello che emerge dalle pagine dell'ordinanza, ben 500, fondato su amicizie e conoscenze con alcuni imprenditori o cittadini. Diverse le perquisizioni e le intercettazioni telefoniche. Nel Mirino ci sono alcuni i lavori del Comune, sono 30 le procedure sotto la lente di ingrandimento, tra le principali lavori alla scuola media, i campi sportivi, l'affidamento della progettazione di una scuola, di un parco giochi e un parcheggio, la realizzazione di un premio letterario, concorsi pubblici per assumere impiegati e dirigenti, la riqualificazione di aree degradate con tre lotte di lavori per oltre 2 milioni di euro. I coinvolti, come si diceva, sono 25. In carcere l'ex senatore e vicesindaco Filippo Piccone, ex coordinatore di Forza Italia. I domiciliari, oltre al sindaco Santilli di Fratelli d'Italia, ci sono Valtaspecchio, dirigente dell'area tecnica ed ex dirigente della provincia dell'Aquila negli anni passati, Luigi Aratari, Giampiero Attili, Daniela Dicenzo, Livio Paris, Goffredo Mascitti, costruttore. Il divieto di esercitare l'attività professionale riguarda invece Franco Felli, l'architetto Luca Piccirillo, John Carmine La Stella, Claudia Stornelli, Roberto Tonelli, l'architetto Lucio Zazzara, presidente del Parco Maiella, Giovanni Maceroni, Valeria Pacchiarotta, Andrea Pandolfi, Francesco Stornelli, Fabrizio Confortini, Eugenio Russo, Leonardo Gatti, Vincenzo Santilli e Sergio Rossi. L'obbligo di firma per l'attuale assessore Barbara Marianetti ed Ezio Cicciotti, attuale consigliere comunale ed ex vicesindaco.